Allora, come viviamo con il Q18? Senza parrucca Ma... Ma... C'è una macchina di lamocidio? No, tutti qua ci vediamo Poi ci vediamo In pacchetti Cerco lavoro Cerco lavoro Atti prebiti in pubblico Perché atti prebiti? Papatti nazione! Mi chiamo a dare un abbraccio In questa cosa Ragazzi, tu eh! Oh, lei è una lima Un'altra Un'altra Andate